E' iniziata alle prime luci dell'alba l'attività di smistamento della protezione civile della provincia di Arezzo delle 754.000 mascherine fornite dalla regione toscana per i cittadini dei comuni toscani. Due mezzi, uno dell'ente e uno della Croce Rossa italiana, hanno prelevato le mascherine di tipo chirurgico direttamente dal deposito della protezione civile della città metropolitana di Firenze, per recapitarle presso il magazzino della provincia di Arezzo. Da qui verranno poi smistate ai centri intercomunali di protezione civile e ai singoli comuni del territorio aretino. Saranno quest'ultimi dunque a curare successivamente la distribuzione ai cittadini. Tutte le operazioni di consegna ai comuni da parte della provincia di Arezzo si sono concluse in modo da poter attivare nel più breve tempo possibile la distribuzione alla cittadinanza.